Bella raga, buonasera. Dunque si è appena conclusa la seconda giornata di campionato. L'Inter vince a Cagliari, vince 2-1 pur soffrendo. Un Inter che ha fatto un leggero passo in dir rispetto alla partita di Lecce, anche se la squadra e il blasone era molto... era diverso. Il Lecce è molto più scarso del Cagliari, un Cagliari che invece ha convinto di più rispetto alla prima uscita casalinga contro il Brescia. L'Inter è andata in vantaggio con la rete di Lautaro Martinez, poi pareggia Gio Pedro e decidua il rigore che ci stava di Lukaku. Un Cagliari che ha avuto altre diverse occasioni, soprattutto nel finale con Rossettini, però l'Inter vince e raggiunge la Juventus a 6 punti. A 6 punti c'è anche il Torino che ha battuto 3-2 l'Atalanta-Bergamo in un campo difficilissimo, o meglio sul neutro di Parma, però vince ancora il Torino, vince anche il Sassuolo che strabazza la Samedoria a 4-1 con la tripletta di Domenico Berardi che è il nuovo capo camminile di questa Serie A e la rete di Traorè per la Samp, il rigore di Quagliarella. Vince anche il Genoa in casa contro la Fiorentina 2-1, seconda sconfitta consecutiva per gli uomini di Vincenzo Montella e vince lo scontro salvezza anche il Verona in casa del Lecce. 1-0 la rete di Pessina, primo gol in Serie A per il giocatore Scuola Atalanta e soprattutto è un ex Lecce. Venerdì Bologna aveva vinto 1-0 il derby contro la SPAL, ieri il Milan ha vinto il derby Lombardo col Brescia, gol di Cialanovo, la Juventus 4-3 con il Napoli, quelle sono le gare che abbiamo visto ieri. Dunque, ora infine alle 18, 1-1 è finito il derby, capitolino Lazio-Roma con la Roma in vantaggio su rigore con Aleksandr Kolarov, l'ex al suo secondo gol in un derby, il raddoppio poi e il pareggio di Luis Alberto nella ripresa. Dunque, il Parma che vince a Udine anche 3-1, ora si ferma il campionato, si ferma per la sosta della Nazionale dove giocherà la squadra di Mancini il 5 e l'8 settembre per la qualificazione d'Euro 2020. Dunque, la serie ritorna il 14, nel weekend 14-15 settembre. Io vi auguro una buonanotte, sempre fino alla fine forza Juventus. Ciao a io!